Nonostante l'annuncio dato per imminente dai cartelli affissimi e si fa, nella villa comunale di Avellino non sono stati eseguiti nei lavori di potatura degli alberi e l'intervento di manutenzione alle poche giostrine è rimasta in piedi, che rappresentano ancora un pericolo per i bambini che frequentano il parco accompagnato dai genitori. Qualsia una bella fetta di villa resta tristemente transennata. Parecchie sporche, ancora rotte, là non c'è niente. Poi qua che devono fare i lavori, non ancora fanno, come mai? I lavori di potatura degli alberi, anche i lavori di sistemazione delle giostrine. Sì, perché i bambini vengono qua, quando è bel tempo c'hanno parecchi bambini, comunque stanno ancora le transenne, è un problema. Per voi è anche difficile portare i bambini in città a giocare, perché ci sono molti i parchi. Sì, pure quell'altra via Colombo è la stessa cosa, è tutto abbandonato, è rotti, la maggior parte sono rotti. Diventa, voglio dire, un'impresa difficile per voi far divertire i bambini. Sì. La villa comunale off limits per i cittadini è in pieno degrado, nonostante l'impegno degli operatori ecologici. Stamani le aiuole erano invasi da bottiglie e cartacce lanciate dai incivili. I fontanini utilizzati come ricettacolo di immondizia e le panchine prima di velte e poi avvicinate, tipo letto matrimoniale per momenti intimi o modello picnic. Per chi cerca con fatica di tutelare e mantenere puliti i giardini, è necessario garantire un serio intervento di manutenzione al parco. Dal verde alle giostre è tutto pericolante, non solo i rami delle piante secolari. Indispensabili per molti anche assicurare un presidio per vigilare nei giardini in balia di bandeli e balordi e consentire così alla villa comunale di tornare vivibile e praticabile per cittadini e bambini sempre più emarginati. Per ogni tanto ci ci sono, però non servono niente questi controlli. Un controllo più fisso, un preciso.